Si parla sempre più di intelligenza artificiale che è sostanzialmente un metodo di apprendimento automatico per le macchine e i computer in particolare che tende a simulare quello che è il funzionamento dell'intelligenza umana. Attraverso questo metodo di apprendimento automatico si possono creare delle procedure che guidano le macchine e che diventano sempre più capaci di interpretare al meglio quelle che sono delle attività che possono sempre più in qualche maniera imitare l'intelligenza umana. Ebbene è un tema questo dell'intelligenza artificiale che ha degli svolti etici anche particolarmente significativi sulle dinamiche sociali e relazionali che può innescare. Per questo l'Unione Europea si sta muovendo da diversi mesi per creare le condizioni per un regolamento che riguarda l'intelligenza artificiale per renderla eticamente compatibile e per regolarne l'utilizzo all'interno dei Paesi membri. Sulla base di questo come gruppo del Partito Democratico abbiamo elaborato e depositato un progetto di legge che riguarda l'intelligenza artificiale in Regione Lombardia. L'idea è quella di far sì che in Regione si possa elaborare piani coordinati e di sviluppo dell'intelligenza artificiale, promuovere lo sviluppo di sistemi affidabili da parte delle imprese e ancora promuovere l'adozione da parte dei fornitori di Regione Lombardia di sistemi di intelligenza artificiali che abbiano dei codici di condotta conformi alle normative già esistenti nelle leggi italiane. La Regione, secondo questo nostro progetto di legge, dovrebbe promuovere lo sviluppo di un mercato per le applicazioni di intelligenza artificiale sicure e affidabili in Regione Lombardia, promuoverne poi l'utilizzo all'interno degli enti del SIREG, il sistema di Regione Lombardia, e incentivare sempre più un utilizzo di un'intelligenza artificiale che, ribadisco, possa essere conforme alle leggi, questo dovrebbe essere scontato ma spesso non lo è, e soprattutto sicura e affidabile. È un progetto di legge che abbiamo elaborato negli ultimi mesi e che abbiamo depositato, non perché possa essere discusso in questa legislatura che ormai va al termine, ma perché possa essere lasciato come eredità a chi si occuperà di questi temi nella prossima legislatura. Crediamo che siano temi decisivi perché è fondamentale l'innovazione e lo sviluppo, ma devono essere anche compatibili con quelle che sono regole di carattere normativo ed etico che devono guidare l'economia, che non può essere affidata esclusivamente a meccanismi che la sottraggono completamente a quello che è il controllo etico e normativo da parte della collettività. Crediamo sia un progetto di legge perfettibile, ma un punto di partenza importante da affidare, lo ripeto, alla prossima legislatura.